Appuntamento settimanale con Dica 33, il medico risponde, il nostro medico di fiducia e il dottor Paolo Cascavilla, medico di medicina generale. Buongiorno e bentrovato, dottor Cascavilla. Grazie, buongiorno. Allora, chi di noi non si è mai trovato magari a pranzo o a cena con alcuni amici e conoscenti che lamentavano il mal di schiena, questo famigilato mal di schiena? Perché è così frequente, così comune, anche in persone giovani, devo dire? E quali sono le cause più comuni che ci spingono ad andare dal medico, medico di famiglia e dire dottore, ho mal di schiena? Sì, il mal di schiena o lombalgia è una patologia dolorosa, una condizione dolorosa molto frequente negli studi del medico di medicina generale, nonché causa molto frequente anche di assenza dal lavoro per inabilità temporanea. Si può associare anche a contrattura muscolare dolorosa e ovviamente a una limitazione funzionale dei movimenti della nostra colonna lombare. Le cause più frequenti sono movimenti impropri, sollevamenti di peso, torsioni improvvise, ma anche posture sbagliate, oppure in pazienti che hanno delle condizioni predisponenti, ad esempio una scoliosi. Ecco, in questi casi bisogna tener conto che la nostra colonna vertebrale è un capolavoro di stabilità ed elasticità. Mi piace anche dire questo, che l'ultimo tratto della colonna appoggia su un piano inclinato, sul piano sacrale. Questo favorisce lo slittamento, il cedimento verso in avanti della colonna, uno scivolamento che da un lato è positivo perché ci permette di fare delle flessioni in modo autonomo, altrimenti sarebbe difficilissimo piegarsi. Dall'altro lato le strutture posteriori controbilanciano questo, un po' un tiro alla fune. Questo gioco quando viene superato scattano i problemi e quindi anticipo già questo, che questa semplice condizione fisiologica ci dice che bisogna agire e rinforzare sia i muscoli anteriori che quelli posteriori. È un po' questo il segreto, allora rinforzare questa parte del nostro corpo. Che è un corsetto protettivo. Che ci fa stare in piedi e soprattutto dritti. Come fare per, lei appunto diceva l'importanza di rinforzare la parte anteriore e posteriore, però come si può fare per prevenire questi attacchi di mal di schiena? Allora io direi che la prevenzione dovrebbe essere una prevenzione remota, dovrebbe cominciare già dall'infanzia, oggi si vedono tanti bambini incedere, andando a scuola ingobbiti, qualche mamma giudiziosa li aiuta trasportando una valigetta con le rotelle. Perché non bisognerebbe sovraccaricare i ragazzi su una colonna estremamente elastica ancora in crescita. Ma che cosa possiamo fare per gli adulti e chi è più avanti nell'età? Innanzitutto chi ha qualche chilo di troppo dovrebbe provvedere. Anche la sedentarietà è un circolo vizioso, le due cose si rincorrono un po' a vicenda. Perché avere dei chili in sovrappeso significa alterare le curve fisiologiche della nostra colonna. Perché si tratta di mantenere più peso, quindi fanno più fatica. Certo. E poi rinforzare, come dicevamo, la muscolatura posturale, rinforzarla e assumere delle posizioni, delle posture corrette durante la nostra vita e il nostro lavoro. Ecco, non siamo più negli anni dei nostri nonni, dei nostri bisnonni che andavano a lavorare nei campi e quindi di movimento fisico, dottor Cascavilla, ne facevano tanto. Noi oggi, davanti a un computer, seduti in ufficio, se riusciamo a fare qualche rampa di scala per andare al piano di sopra, siamo fortunati, però la nostra posizione è quella. Però come possiamo adottare una postura corretta? Sì, innanzitutto per chi lavora molte ore a computer, si consiglia innanzitutto di sedersi correttamente magari con un supporto lombare. Tenere, questo è un fatto molto interessante, i piedi appoggiati su un rialzo, un breve rialzo. Perché questo, come dicevamo prima, ci consente di sollevare un po' il piano dell'osso sacro ed evitare che la colonna scivoli in avanti per quello che dicevamo prima. Poi le braccia vanno tenute a 90 gradi appoggiate sul piano di lavoro e lo sguardo deve essere parallelo all'asse visivo, parallelo al monitor del computer. Può essere utile alzarsi ogni tanto, fare una breve camminata? Certamente. Poi possiamo dare anche qualche consiglio alle signore che magari stanno a casa e trascorrono molte ore, ad esempio, nei lavori di casa, lo stirare. Quindi evitare di fare questo lavoro sempre in piedi, sovraccarichiamo, senza muoversi la nostra colonna. Si consiglia, fatto interessante, di alternare con un rialzo le due parti degli arti inferiori. in modo tale che andiamo a scaricare alternativamente il sovraccarico sulla colonna. Cioè non esercitare sempre questo tipo di lavoro nella stessa posizione, perché la nostra colonna soffre. Magari potremmo utilizzare uno sgabbello, tipo quello da barro, oppure un rialzo, come diceva lei, un piccolo sgabbellino. Magari alternando gli 5 minuti, alternando. Questo gioco alternante è molto utile per la nostra colonna. Ci sono altri esercizi semplici che possiamo adottare, anche fare a casa, per mantenere attiva la nostra muscolatura? Sì, sì. Potremmo consigliare degli esercizi semplicissimi, che tutti possono fare a casa, anche persone di una certa età. Certo. Basta distendersi su un tappetino e per rinforzare i muscoli anteriori della nostra colonna, basta piegare, flettere le ginocchia, mettere le mani dietro la nuca e alternativamente portare la testa verso le ginocchia. Così, per alcuni minuti, un esercizio semplicissimo, sentiremo indurire la muscolatura addominale. Quindi andiamo a rinforzare la muscolatura addominale. Per quanto riguarda un esercizio altrettanto semplice, ce ne sono tanti, per rinforzare la muscolatura lombare, quella posteriore, la muscolatura posturale posteriore, sempre nella stessa posizione, distesi, gambe flesse, questa volta con la testa appoggiata sul tappetino, gonfiare la pancia e sgonfiare. Come si fa con un palloncino? Che si gonfia e si sgonfia, avendo cura che nella fase di espirazione bisogna spingere la colonna verso il piano di appoggio. Ecco, alcuni minuti fatti in questo modo, semplicissimi, rinforzano e tengono in equilibrio questo famoso corsetto che ci protegge. Il nostro importante, questo corsetto è importante, fondamentale per farci stare dritto. Perché, diciamo una cosa, i fasci muscolari sono come i tiranti di una tenda da campeggio o di una vela di una barca. Se non sono ben tesi, la vela si sgonfia e cioè la nostra colonna si incurva. Quindi è importante e un'ultima cosa da dire è questa. Nell'agenda dei buoni propositi quotidiani bisogna essere costanti. La prevenzione, a cui il medico di medicina generale è molto attento, la prevenzione richiede assiduità per avere risultati positivi nel tempo. Esatto, non importa fare mezz'ora di esercizi una volta alla settimana, però 5 minuti al giorno è la base per vivere meglio. Dottor Cascavilla, in conclusione, se questo mal di schiena non mi passa e voglio fare affidamento ad un farmaco, lei che cosa consiglia? In fase acuta è molto importante l'attività del medico di medicina generale nel prescrivere dei farmaci anti-infiammatori, anti-dolorifici, se il caso anche mio rilassante in caso di contrattura muscolare, in quanto è importante risolvere la contrattura. Altrimenti, anche quando li mandiamo dagli specialisti, fisiatri o fisioterapisti, bisogna risolvere prima la contrattura perché si possa poi continuare con le terapie e gli esercizi posturali. Per quanto riguarda creme locali, sono di scarsa efficace. Invece, una cosa interessante può essere l'applicazione di calore nel caso in cui vi sia la contrattura muscolare. La classica borsa dell'acqua calda della nonna. Certo. Dottor Cascavilla, grazie per essere stato con noi e qui appunto non solo in veste di medico di medicina generale, ma anche come responsabile dell'area tabagismo. Ricordiamo che lei è membro attivo del comitato tecnico scientifico della Simefac, la società interdisciplinare di medicina di famiglia e comunità, appunto all'interno della quale è responsabile dell'area tabagismo perché lei è in prima fila proprio nella lotta contro il fumo e una delle prossime puntate sarà dedicata proprio a questo. Grazie per essere stato con noi. Linea alla regia, breve pausa e poi di nuovo insieme. Grazie a tutti.